Il campionato di Serie D tra le squadre del Progresso e del Pionestuola. Le informazioni in campo. Il Pionestuola viene con Patagliola, Santa Terra, Carrara, Perseu, Cavalli, Perri, Michelotto, Staronati, Oneto, Bruschi e Colantonio. A disposizione del mister Tappiani, in bandina Gidecchi, Potocco, Romeo, Guglieri, Hataway, Saia, Esposito, Tognoni e Arrondini. Il progresso risponde con la seguente formazione. Celeste, Cocchi, Cantelli, Monaco, Fiore, Melalini, Rossi, Murinatti, Vassallo, Marchetti, Esposito. A disposizione del mister Roberto Mocianiello. Tartaluga, Cocchi Mattia, Mangui, Bondicini, Bagatti, Mantoni, Salvatori, Peravesi e Matta. Abito per l'incontro il signor Monesi della sezione aria di Protone, assistenti Unichita di Vecco e Marazzo di Bergamo. Signori, buon poverito e buon divertimento. Signori, buon poverito e buon poverito e buon poverito. Signori, buon poverito e buon poverito e buon poverito. Signori, buon poverito e buon poverito e buon poverito. Io non riesco a... Merda! Buon poverito e buon poverito e buon poverito. Quindi? A cazzo! Cazzo! Lo fa quasi sempre così. Sì! 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 Sì!